E se Joy Boy fosse Ciccio Merrino, potrebbe esserlo... Certe volte le maschere sono troppo pesanti da indossare, quel ragazzo mi manca tantissimo. Avete saputo che è morta Elena? C'è il funerale... Tutto ha una fine, insomma. È morta Elena Vogelita? Ciccio è disperso, sì, ma Elena è morta. Elena è morta e ci saranno i funerali il 16, io pensavo di venire, ho già utilizzato il mio Instagram per intimare il masseo di non presentarsi al funerale, altrimenti lo corco di botte perché, guarda caso, si finanza con una sbrega Fioi e muore pochi mesi dopo, quindi penso proprio di aver capito quello che è successo. Adesso io ovviamente non mi azzardo a dire una battuta perché quello con i suoi potenti avvocati sicuramente cercherà di chiudermi la bocca, quindi no, non parlerò. È morta Elena Vogelita e pensavo... Scusate... Scusate ragazzi, lo so che parlavamo fino a poco fa che era il vostro eroe, che era il vostro Joy Boy e mi dovete vedere in questa condizione, ma... secondo me è giusto anche farvi vedere le cose importanti della vita e le cose importanti della vita sono che... che è giusto piangere per i propri affetti, soprattutto per le persone che amavi e... e non c'è nessuna vergogna né a piangere né a mostrare questi sentimenti. La lingua più bella d'Italia, guarda che lunga! È lungissima! Mario ti prego non riesco a vederti così, tutto a sbrega fioiato. No, guarda che a sbrega fioiato vuol dire un'altra cosa, tipo... Faccio il game, tipo... MA NON D'ENTRA DEL GAL, MA PORCO DIO! Tipo così... Trocate un'altra cosa... Grazie a tutti.